E quindi, secondo esercizio, il nostro prossimo lavoro sarà, dobbiamo occupare la guardia, gamba destra va indietro, gamba destra indietro, ok, e gamba sinistra avanti, più attento, prego, va bene, ok, braccia su, adesso dobbiamo colpire con braccia sinistra il mio panci, prego, prova, ok, ancora, ok, ancora, va bene, e destro deve andare su, ok, quindi prima dobbiamo colpire con braccia sinistra, però devi guardare dove colpisci e poi guardare palmo destro, va bene, avanti, uno, due, va bene, uno, due, e quindi meglio, si deve colpire meglio il panci, va bene, dai, uno, due, tre, quattro, cinque, più forte, sei, più lungo, otto, sette, otto, nove, dieci, bravo, cambiamo guardia, come adesso abbiamo lavorato con braccia sinistra, in panci e destra in testa, adesso dobbiamo lavorare con braccia destro in panci e sinistra in testa, va bene, dai, prova, uno, ok, due, tre, più, più forza, quattro, ok, adesso braccia destro e poi sinistra, ok, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, più forte, sette, più veloce, otto, nove, dieci, bravo,